Buongiorno e benvenuti ad Ecco tua madre. Abbiamo parlato del ruolo di Maria come corredentrice. San Padre Pio, San Giovanni Paolo II, Santa Gemma Galgani e molti altri santi hanno parlato di questo ruolo di Maria come corredentrice. Ma questo ruolo è un nuovo insegnamento della Chiesa? È qualcosa che compare nel XX-XI secolo o è qualcosa che è fermamente fondato nella tradizione della Chiesa? Abbiamo già analizzato le Sacre Scritture parlando del ruolo che Maria ha avuto nell'Annunciazione nel portare al mondo, parlando della profezia di Simeone che previde che il cuore di Maria sarebbe stato trafitto. E parlando dell'apice della sofferenza di Maria sul Calvario che, come dice il Concilio Vaticano II, mostra che Maria nel suo cuore partecipò nelle sofferenze di Gesù e mostra che offrì Gesù come un sacrificio di consenso per compiacere Dio Padre. Ora guardiamo alla Chiesa nei suoi primi anni di vita. Possiamo dire che già da allora accettavano e vivevano questa dottrina? Incominciamo con il primo modello, la prima idea di Maria nella Chiesa Primitiva, quello di Maria come la Nuova Eva. Sant'Ireneo disse prima della fine del II secolo, nel 185 d.C. circa, che Maria fu causa della salvezza per se stessa e l'intera razza umana. Che cosa straordinaria da dire nel XX secolo! Questo testimonia in modo straordinario la comprensione che la Chiesa dei primi tempi aveva dell'importanza di Maria per il cristianesimo. Sant'Ireneo non intendeva dire che Maria era una causa che prendeva il posto di Gesù, ma intendeva dire che Maria fu una causa strumentale, una causa materna nel portare Gesù al mondo. Il sì di Maria porta al mondo il suo Salvatore. E questo è molto chiaro, sin dai primi anni della Chiesa, come già menzionato, San Girolamo dice morte attraverso Eva, vita attraverso Maria. E anche liturgicamente il nome Eva, grazie all'obbedienza di Maria, può essere cambiato in Aave. E dunque vediamo, a partire dal V secolo, per esempio, le liturgie dei riti orientali che parlano della partecipazione di Maria nella redenzione. Le lacrime di Maria sono un modo per partecipare nella redenzione. Vediamo questo nell'Acatistos, il grandioso inno d'Oriente. Anche nelle liturgie dell'Etiopia, nelle liturgie copte e nelle liturgie varie della Chiesa d'Oriente, il ruolo di Maria nella salvezza del mondo risalta molto chiaramente. La preghiera, Madre di Dio salvaci, fu già in uso dal V e VI secolo della Chiesa. Dal X secolo il termine corredentrice fu quasi già in uso, poiché al tempo si usava ancora solo il termine redentrice. In un libro di inni francese, Maria è chiamata la Redentrice, in associazione a Gesù, il Divino Redentore, proprio come oggi chiamiamo Maria la Mediatrice, in associazione con Gesù, il Mediatore. Dal XIV secolo Maria viene chiamata la corredentrice. Grandi santi come Santa Caterina da Siena ed altri mistici parlano di Maria nel suo ruolo unico nella redenzione. Anche il grande teologo del concilio di Trento, Alfonso Salmeron, difese il ruolo di Maria come corredentrice, mediatrice e avvocata. Non voglio andare troppo in dettaglio, in questioni teologiche o storiche, ma voglio farvi capire che questo non è un titolo Mariano Nuovo. Il ruolo di Maria come corredentrice è profondamente radicato nella tradizione e nella storia della Chiesa. Ed è per questo motivo, amici miei, che dovremmo gioire per questo titolo. Dovremmo celebrare questo titolo proprio come fece Padre Pio, chiamando Maria la sua cara corredentrice. Dunque oggi, con una rinnovata gratitudine, obbediamo alle parole di Gesù di seguire nostra madre e continuiamo ad avere un grande amore, un grande sentimento di gratitudine verso Maria, nostra madre, la nostra corredentrice, sempre in unione e mediante l'intercessione del grande Padre Pio. Grazie e che Dio vi benedica. Grazie, God bless you.